musica 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 ok, benvenuti ragazzi, io sono Gisius e oggi si riprende con me questa forse 3 Black Ace ok, non mi sono mosso di un millimetro dalla scorsa puntata, perchè probabilmente ci saremmo filmato questo tutto, quindi via musica non posso mangiarlo tutto quanto ehi ragazzo, sveglia, che? cosa sogna Gio? non posso mangiare tutto quanto cosa cosa sta dicendo che 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 c'è? c'è stato un altro incidente? è una chiamata, dalla dottoressa Goddard oh, ok per l'amor del cielo cosa credi che sia una sveglia wizard? buon dio haha, l'ho capita adesso l'ho letta male io cosa credi che sia una sveglia wizard? buon dio buongiorno, dottoressa Goddard buongiorno Gio sembra che ti sia fatto una bella dormita oh, essere giovani scoprirai che più invecchi e prima ci si sveglia la mattina non riuscirei mai più a dormire tanto tanto quando nella giovinezza meglio che tu lo sappia dormivo tanto anch'io quando ero una ragazza mmmm, dottoressa oh, sì, vero per il momento è meglio finirla con le chiacchiere mi dispiace averti svegliato ma ho un incarico per te nessun problema quale è l'incarico? voglio che ispezioni le seguenti tre aree elementari di Corrigi, Spica Man e gli studios WBG Sì, dovresti riuscire a trovare delle onde rumore. Onde rumore? Sì, sembra che il dialer usi le onde rumore per viaggiare da e tra luoghi diversi. Se vai a parli con gli obiettivi delle onde rumore, potresti riuscire a rintracciare qual tipo? Joker. Rintracciarlo potrebbe condurti alla base del dialer, quindi ci state dicendo di andare in cerca di dati. Proprio così, Maker. Ti hanno mai detto che sei molto perspicace? Bah, dovrei essere tonto per non capire una cosa simile. Questa ma tutta la ricordo. Abbiamo visto di recente un telefilm investigativo. Penso che si chiamasse ISO, indagine strada onda. Mega sembrava molto preso. Hehehe, sciocco Mangers. Bene, adesso ripensiamo a cosa è accaduto ieri. Prima c'è stato un incidente alla scuola di Geo. Degli wizard sono andati fuori controllo vicino all'ingresso della scuola. Una cosa molto strana, non trovate? A seguire tre wizard fuori controllo hanno attaccato lo spicamel. Gli ingressi per le Wonder War sono localizzati nel mondo reale, quindi dovreste controllare tutti i luoghi sospetti presenti nelle tre aree. Alla finale in cui ci sono stati incidenti sono gli studio WBG. Joker ha fatto lì la sua comparsa. Il numero in quell'area è un po' più diverso, o dovrei dire speciale. Meglio se non ci vai finché non avrei controllato bene le altre aree. Per riepilogare controlla prima la scuola elementare di Geo e la spicco a me. Ok, abbiamo capito, puoi contare su di noi per prendere i cattivi. Eh eh, conto su di te Makers. Bene, allora Geo, visto che le Wonder War sono aree molto pericolose, questo è il genere di cose che solo tu puoi fare. Fai del tuo meglio e non commettere imprudenza, ok? Sì signora, passo e chiudo. D'accordo, andiamo ad indagare. Ricerca dati. Si chiama Ricerca dati. Eh eh, dovrò il miglior wizard detective di sempre. Mi permetterai di aiutarti nelle indagini giusto? Se ti serve aiuto devi solo parlarmi. Intesi Detective Stellar. Detecchi, detecchi, madonna santa. Detective Stellar. Non suona poi così tanto male. E' loro Detecchi, e' loro Detective Stellar. La scena del crimine, la scena del crimine ci sta chiamando. Dio, mi si sta impastando la lingua. E poi Mie che è troppo figo dai, cioè... Un cassettone che ci sia nascosto diritto qualcosa? No. E' meglio. Lander VG sta reagendo. Rilevata onda rumore. Accesso. Rilevata strana composizione di rumore. Pericolo, comportamento, va bene. Comunque, se noi... Ci trascodifichiamo. E ci entriamo. Io davvero non pensavo di dover parlare con gli altri. Non di affrontare sti cosi. Wow, wow. Geo, ecco che arriva. Mi è piaciuto, wow, wow. Molto bello. Ok, vieni qua. Vieni qua. Affrontami. Affrontami. Vieni qua. Eeee... Dai, 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 dai... Dico mio. fai male ok noi mi colgiamo 450 zemi ah adesso devo parlarci che cosa mi è successo cos'è questo rumore così potente ah sento la testa stessa per esplodermi sembra che questo wizard possa riandare in qualsiasi momento fuori controllo fuori controllo? ora che me lo dici non riesco a ricordare nulla da quando ho trovato questi strani dati strani dati? questi qui sembrano un formento di una chiave d'accesso oh si ricordo questi dati sono caduti da un uomo molto alto li ho raccolti solo per restituirgli e poi quell'uomo alto per caso vestiva di nero e portava occhiali da sole blu si era proprio lui Joker non c'è alcun dubbio conoscete quell'uomo? se cosa potete ridarmi questi da parte mia? mega da ricevere codice rumore 1 si ho trovato un indizio iniziamo pian piano ad avvicinarci diale i tuoi giorni sono contati mega inizia sembra il rumore dei cattivi ok oh qua c'è un'interferenza comunque vi state chiedendo perché io non ho giocato il il secondo episodio di Mega Man Star Force cioè sarebbe stato Zack Rix Ninja o Zack Rix Aurean non l'ho giocato perché è una palla mostruosa la parte dell'onda del cielo trovate continuamente wizard tu cosa hai? ehi compara dovrei farti una domanda cos'è questa parlata da gangster? sei qualcosa di un gruppo chiamato dealer? mai sentito prima d'ora? mai sentito prima d'ora? perché non la pianti con questa manfrina? so che tu sai di cosa sto parlando scuta il rospo penso che Mega abbia guardato troppe serie polizie skin team mostrami quello che hai stai facendo il fumo con me è vero? ti piuttosto? ti sto solo chiedendo di mostrarmi una carta e questo è quello che faccio scambio carte senti tu meglio che stia attento come ti rivolgi a me Mega aspetta mi mostro una carta vedo che almeno una di voi ha del buon senso detective star quale carta vuoi? fammi vedere perché non mi dai una carta a cannone? cosa? vuole una carta a cannone? sei fuori di testa? una carta a cannone? consigli la carta? sì ok la prendo eh eh mi piaci prendi questo ehi c'è stato un codice rumore cos'è? ho sentito che avendole abbastanza si raggiunge il covo del dialer grazie le sbufonate in stile poliziesco di Mega mi potrebbero far gioco la cosa potrebbe non essere tanto male ok effettivamente ce n'era uno qua quindi trasqualifica Mega entriamo sap non ho visto neanche sap si sap ok sono un bel presso anch'io sap quiz rumore che cosa che cosa sta succedendo? prima domanda quando di questi colori è il mio preferito? eh giallo sap si sap sap risposta esatta procediamo seconda domanda ehi vuoi spiegarci una volta per tutto che diamine succede? qual'oggetto tra questi è stato rubato a suoni e strum nella spiaggia? una pelliccia il suo cuore di ragazza una morsetta anche il suo cuore di ragazza eh eh faccio colgo io ehm sap ehi sap risposta esatta perfetto ok adesso l'ultima domanda quante volte ho detto sap da quando ho iniziato questo quiz? stai scherzando? 7 sono sconvinto sap 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 anche mega sap impressionante hai risposto correttamente ad ogni domanda si è stato un gioco da ragazzi adesso posso darti il tuo favoloso premio mega ma riceve il codice rumore 4 cos'è questo? questo oggetto è stato lasciato da quel gruppo che sta terrorizzando le onde rumore il dollar dollar? non è che si tratta del dealer? non c'è alcun dubbio questo è un indizio ce l'abbiamo fatta detective stellar sap ahhh l'ha contagiato ok perfetto l'ultimo onde rumore ragazzi penso che dopo completeremo il codice perfettissimo entriati zzz scusami posso farti una domanda? zzz oh dove sono addormentato mmm qual zzz che sta serussando qual zzz che sta serussando? ahhh altra gente dall'esterno chi è questa volta? potreste starne da lontani e smettere di guastare le nostre onde rumore? altri? c'è stato qui qualcun altro tra noi? puoi scommetterci che c'è stato qualcun altro? uno grosso spaventoso uno basso spaventoso uno carino spaventoso passano ovunque come se fossero casa loro questa non è una strada dove chiunque può passare quello meglio crede grande spaventoso? quello potrebbe essere stato Joker ad ogni modo uno di loro è caduto in un utile frammento di dati prendetelo e che voi riceve il codice rumore C3 ok li abbiamo trovati tutti è un pezzo di qualche tipo di chiave d'accesso da qualche via i dati della terra sono stati divisi in quattro parti con un solo pezzo non ci farai molto ci siamo riusciti Geo non te devo detecti stella abbiamo un indizio? si grazie mille siete ben muti credo ok devo trovare l'onda per fare il pulse out onda per fare il pulse out ecco di qua ok ragazzi ok direi che questo episodio può finire qua scopriremo cosa dovremmo fare con quei dati lì nel prossimo episodio quindi se il video vi è piaciuto lasciate il commento mettete il piace e iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video quindi bella ragazzi noo i mini slime le slime magmose ma sei fatto la mia no 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 penso di no no tu sei fatto la mia noo tu sei il c mamma mia mamma mia ci hai condannati a morte guarda quanti ce n'è sono tre che morto prendete la mia roba